Michael, Prima da titolare e prima vittoria, soddisfatto? Sì sì, sono molto contento, sono contento della fiducia che mi ha dato Gigi e sono contento che oggi è andata bene insieme tutti con la squadra che siamo riusciti a portare a casa una vittoria in un campo difficile e una partita molto 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 difficile. Molto combattuta, sembrava molto aperta il risultato. Sì sì, fino dal primo all'ultimo minuto è stata una battaglia e l'importante è che abbiamo lottato tutti insieme e poi dopo grazie alle nostre doti anche ci è andata benissimo. Da quest'estate che sei con i ragazzi, di seconda partita titolare consecutiva con la Coppa Italia con il debut diciamo ufficiale per primi minuti, come ti stai trovando? Ah, io mi trovo benissimo, è un gruppo, è una società insieme allo staff bellissimo, mi trovo bene e guarda ho tutta la fiducia di tutti quindi non posso solo che far bene e stare tranquillo. Ti sei dato degli obiettivi? Sì sì certo, io mi pongo sempre gli obiettivi per me stesso, per la squadra e quindi spero solo che possa fare bene per me stesso e anche per chi mi mette a disposizione ecco. Prima Gigi Fresco ha detto che ti ha fatto giocare anche e soprattutto perché sei bravo nel gioco aereo, questa è la tua migliore dote? Guarda non sono uno che se loggia tanto però mi ha fatto piacere le sue parole di prima e io cerco sempre di difendere al meglio e il resto viene da sé ecco. Grazie mille. A voi. Grazie mille.